Com'è stato il tuo fine settimana? Hai piani per stasera? Qual è il tuo film preferito? Was machst du in deiner freizeit? Cosa fai nel tuo tempo libero? Quale libro stai leggendo? Was für Musik hörst du gerne? Che tipo di musica ti piace ascoltare? Hast du Haustiere? Hai animali domestici? Wo möchtest du gerne Urlaub machen? Dove ti piacerebbe andare in vacanza? Dove ti piacerebbe andare in vacanza? Was ist dein Lieblingsessen? Qual è il tuo cibo preferito? Qual è il tuo cibo preferito? Gehst du gerne ins Kino? Ti piace andare al cinema? Ti piace andare al cinema? Was ist dein Lieblingssport? Qual è il tuo sport preferito? Qual è il tuo sport preferito? Hast du kürzlich eine interessante serie gesehen? Hai visto di recente una serie interessante? Hai visto di recente una serie interessante? Wie lange lernst du schon Sprache? Da quanto tempo stai imparando lingua? Welche Länder hast du besucht? Quali paesi hai visitato? Quali paesi hai visitato? Kochst du gerne? Was ist dein Spezialgericht? Ti piace cucinare? Qual è il tuo piatto speciale? Ti piace cucinare? Qual è il tuo piatto speciale? Come preferisci trascorrere le tue vacanze? Come preferisci trascorrere le tue vacanze? Quale hobby vorresti provare? Quale hobby vorresti provare? Was ist dein Traumberuf? Qual è la professione dei tuoi sogni? Qual è la professione dei tuoi sogni? Gibt es un paese che vorresti assolutamente visitare? Was ist das Spannendste, das du jemals gemacht hast? Quale è la cosa più emozionante che hai mai fatto? Hast du einen Lieblingsplatz in deiner Stadt? Hai un posto preferito nella tua città? Gehst du gerne auf Konzerte? Ti piace andare ai Konzerti? Ti piace andare ai Konzerti? Quale è il tuo museo o galleria preferito? Quale è il tuo museo o galleria preferiti? Che tipo di film ti piacciono? Che tipo di film ti piacciono? Beschreibe deinen perfekten Tag. Describi la tua giornata perfetta. Describi la tua giornata perfetta. Hai un ricordo di infanzia preferito? Hai un ricordo di infanzia preferito? Was würdest du tun, wenn du im lotto gewinnen würdest? Cosa faresti se vincessi alla lotteria? Cosa faresti se vincessi alla lotteria? Se potessi imparare immediatamente qualsiasi abilità, quale sarebbe? Se potessi imparare immediatamente qualsiasi abilità, quale sarebbe? Was ist das beste an dem Ort, an dem du lebst? Qual è la parte migliore del posto in cui vivi? Qual è la parte migliore del posto in cui vivi? Gibt es un buch, das dein Leben verändert hat? C'è un libro che ha cambiato la tua vita? Was ist dein Lieblingstier? Qual è il tuo animale preferito? Qual è il tuo animale preferito? Mein Lieblingstier ist der Tiger. Il mio animale preferito è la Tigre. Il mio animale preferito è la Tigre. Welches Essen magst du überhaupt nicht? C'è un cibo che non ti piace affatto. 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 Qual è la tua bevanda preferita? Ich trinke am liebsten Tee. Preferisco il Tee. Wie entspannst du dich nach einem langen Tag? Come ti rilassi dopo una lunga giornata? Ich sehe mir gerne Filme an. Mi piace guardare film. Mi piace guardare film. Hast du eine Lieblingsjahreszeit? Warum? Hai una stagione preferita. Perché? Hai una stagione preferita. Perché? Ich liebe den Herbst wegen der Farben. Adoro l'autunno per i suoi colori. Adoro l'autunno per i suoi colori. Welche art von Büchern liest du am liebsten? Che tipo di libri preferisci leggere? Che tipo di libri preferisci leggere? Ich lese gerne Kremis. Mi piacciono i romanzi gialli. Mi piacciono i romanzi gialli. Gibt es eine sportart, die du gerne ausprobieren möchtest? C'è uno sport che vorresti provare? C'è uno sport che vorresti provare? Ich würde gerne klettern ausprobieren. Vorrei provare l'arrampicata. Vorrei provare l'arrampicata. Welches ist dein Lieblingscafé in der Stadt? Qual è il tuo caffé preferito in città? Ich gehe gerne ins Café am Markt. Mi piace andare al caffé nella piazza del mercato. Mi piace andare al caffé nella piazza del mercato. Ma sono sensibile. Mi piace andare al ми Moi. W s morrere in città. Grazie a tutti.